Salve e benvenuto al nostro amico libro che vuole delineare ancora una volta in qualche modo una società, possiamo aggiungere almeno tra parentesi una buona società. Messaggero di Padova e Facoltà Teologica del Triveneto nella collezione Sofia Episteme Studi e Ricerche numero 21 Roberto Schiavolin Lo spirito soffia dove vuole. Espressione giovanea, classica, tipica. L'illustrazione da Hildegarda di Bingen, dinamiche dell'aspirazione nella cultura religiosa tardo-antica. È un dottorato di ricerca e allora si può immaginare. La ricchezza della documentazione è, se possiamo aggiungere, una qualche fatica che si richiede per affrontare opere di questo genere, ma vale la pena. Cominciamo con dare uno sguardo a una lunga citazione di Verbeck. Traduciamo dal francese, l'evoluzione della dottrina del pneuma, uno dei termini per indicare spirito, ma tutto questo lavoro di dottorato si gioca soprattutto sulla analisi dei termini pneuma, spiritus, le varie accezioni a partire dai filosofi greci, poi nei padri greci e latini, fino all'uso liturgico e moderno. E allora ripetiamo già questa prima messa a punto della terminologia che riguardano pneuma, divinità, anima umana, nuove idee, nuove concezioni, il mondo trascendentale. Ma andiamo subito all'indice in modo da vedere lo sviluppo dell'opera, appunto, l'ambiente culturale classico ellenistico, il contesto ebraico, il contesto cristiano e poi il sincretismo dell'epoca imperiale, la galassia agnostica, il milieu esoterico, la riflessione filosofica ricchissima, Seneca, Epitteto, Marco Aurelio, Plotino, Porfirio, Giamblico, il cristianesimo antico e si parte da Giustino, Taziano, Teofra, Atenaglio, Ireneo, poi naturalmente i grandi, Clemente, Origene, Atanasio, si passa all'Occidente con Agostino e Girolamo fino alla conclusione. Ma torniamo a dare qualche idea, per esempio, Ireneo, perché tutto il volume, come si conviene a una tesi ben elaborata, ben strutturata e documentata con citazioni, ecco, Ireneo. Altro è infatti il soffio di vita, a flatus vite, Genesi 2.7, che rende l'uomo psichico, animalis, e altro lo spirito vivificante, spiritus vivificans, che prima è Corinzi 15.45, che rende l'uomo spirituale spiritualis. E per questo Isaia dice, così dice il Signore che ha fatto il cielo e l'ha fissato, che ha consolidato la terra e le cose che sono inesse dal soffio vitale, a flatus vite, al popolo che è su di essa, e lo spirito, spiritus, che la calpesta. E ancora, dice l'Apostolo, rivolgendosi a noi che siamo uomini, ciò che appare prima non è lo spirituale, ma prima c'è lo psichico e poi lo spirituale. Vedete quindi un'ulteriore distinzione tra psichico e spirituale, dove psichico, psichè, è una realtà ancora abbastanza terrena, terrestra, di controllo spirituale, che è trascendente. E vediamo ancora un'altra citazione, qui siamo alle conclusioni che possiamo ripercorrere brevemente, perché le conclusioni danno sempre la possibilità di rivedere l'intero percorso del volume e quindi la dimensione interdisciplinare, lo studio dei termini pneuma, rua in ebraico, spiritus in latino. Allora la dimensione spirituale, cosmo, teandrica, il discorso di Gesù con la samaritana, appunto con l'espressione lo spirito soffia dove vuole e poi i primi padri, Tertulliano, Lattanzio, i termini pneuma, ancora Agostino, Vittorino, Ambrogio, Agostino, che operano un inserimento filosofico, una riflessione filosofica nella discussione teologica. I concili da Nicea a Costantinopoli risultava ormai vincente, non sarà altro che rafforzata. I migliori teologi del IV secolo, come si è visto negli ultimi due capitoli, proseguiranno in maniera efficace il processo di divinizzazione dello spirito, bisogna arrivare alla terza persona della Trinità, definendo fin nei minimi dettagli la sua origine, procede dal padre attraverso il figlio, la sua collocazione intratrinitaria, le sue proprietà, le sue operazioni ad extra, santificazione, illuminazione, eccetera. Poi un elogio ripetuto a Hegel, che molti non apprezzano, ma che secondo Roberto Schiavolin è stato non soltanto il migliore tra i filosofi a illustrare questa realtà, ma che dà utile indicazione anche ai teologi. Dalle paoline, cos'è Maria Rodriguez Olaizola, gesuita? Danzare con la solitudine. Si capisce l'ossimoro. La solitudine è tristezza, pensiamo al coelet, tristezza che nasce dalla malattia, dalla incomprensione, mentre danzare indica un modo di affrontare questa situazione dolorosa con un atteggiamento non di reazione rabbiosa, ma di accoglienza il più possibile dolce, mite. Possiamo parlare, in questo senso, di un comportamento cristiano, di un comportamento di serenità che nasce dal guardare a colui che si è caricato volontariamente della sofferenza per salvarci. Una seconda sezione, partiamo da Luca Montecchio che cura questa pubblicazione della Grafe, tensioni sociali nella tarda antichità, nelle province occidentali dell'impero romano. e quindi delimitati tempo e spazio. Andiamo all'interno dove troviamo in bella evidenza le citazioni classiche che vengono tradotte, ne abbiamo qui sotto gli occhi una. Non era sembrato, traduciamo dallo spagnolo perché questo è un contributo in spagnolo, non era sembrato a questi mostri biformi questo male che trascorreva attraverso il nostro paese. E quindi abbiamo dovuto ricordarci che il volume comprende anche testi in spagnolo, ma ne abbiamo qui sotto gli occhi uno in italiano. Finalmente da subito abbiamo interrotto anche il nostro costume di salutarli. È Severo che parla. E non solo, abbiamo troncato anche quell'abitudine di comportamento familiare, salvo che l'errore di un'antica parvenza di carità si è trasformato in odio secolare, tuttavia per amore della salvezza eterna. E questa è una citazione appunto dalle epistole di Severo. E a mano a mano abbiamo per esempio i Bacaude, queste bande che sono espressione di un malessere sociale nelle gallie, tensioni sociali e etniche e dominazione politica nelle gallie. Insomma un modo per ripercorrere la storia antica. Mentre dai di libri, veniamo ai tempi nostri, i tempi nostri diciamo a partire dalla rivoluzione sovietica del 17, Gaetano Colonna, Ucraina tra Russia e Occidente. Un'identità contesa appunto. A partire dalla rivoluzione bolshevica del 17, abbiamo da una parte i sovietici, dall'altra i kulaki, i latifondisti o grandi proprietari terrieri che si oppongono ai sovietici, poi naturalmente l'invasione sovietica, l'invasione nazista di Hitler, la reazione sovietica, fino a Gogol. Vediamo che cosa ci può dire questo grande scrittore e drammaturgo. Io per primo non so se la mia anima sia un'anima russa o ucraina. So soltanto che non darei mai la precedenza ai piccoli russi o ai russi o viceversa. Entrambe le loro nature abbondano di doni del cielo e come per destino contengono l'una ciò che all'altra fa difetto, segno evidente che debbano integrarsi per poi, una volta riunite, formare qualcosa di perfetto per l'umanità. Dalle edizioni San Gabriele della Dolorata, Tito Paolo Zecca, passionista, eccolo qui, un caro amico dagli anni romani, che cura la memoria della sua congregazione, i passionisti in Sabina e nell'Abruzzo Aquilano. E' una ricostruzione che si avvale sia delle foto, e vediamole subito per alleggerire il nostro discorso, eccole qua, l'ambiente, le residenze, a volte trascurate, a volte ricostruite, i personaggi. Il cardinale Luigi Lambruschini, che vuole i passionisti nell'abbazia di San Zonatore Maggiore, il venerabile padre fortunato De Gruttis, e poi appunto altri ambienti, qui padre Sebastiano Amalberti di San Giuseppe, la casa a Obertello, vediamo qui, Orbetello, scusate, a Orbetello, poi appunto ancora il padre Gabriele Ferretti, altri luoghi che sono stati regolarmente ripresi, ricostruiti, riadattati, padre Valentino Federici e ancora immagini devozionali per documentare la presenza e l'attività dei passionisti. Ma abbiamo anche, ci sembra di non minore importanza, un repertorio inventario della libreria di San Salvatore con molta geografia, vedete vite di santi, oppure di catechesi, libri biblici, naturalmente Antico e Nuovo Testamento, soliloqui, pratiche del confessionale, il parrocchiano istruito, esercizi dei voti, ma anche lo stato economico del ritiro di San Salvatore. E veniamo a questa sezione letteraria, partiamo da Goldoni e il teatro comico del Settecento a cura di Pier Mario Vesco da Carocci. Goldoni è un riferimento essenziale per questo periodo. incrocia anche Vivaldi, un altro grande veneziano, ed è simpatico. Leggo allora attentamente la scena, e Goldoni che è invitato a presentare un lavoro al famoso Prete Rosso, raccolgo il sentimento dell'aria cantabile e ne faccio una d'azione, di passione, di movimento, gliela porto, gliela faccio vedere, tiene con la dritta il breviario, con la sinistra il mio foglio, legge piano, è finito di leggere, getta il breviario in un canto, si leva, mi abbraccia, e sono diventato il suo caro, il suo poeta, il suo confidente, e non mi ha più abbandonato. Ho poi assassinato il dramma del Zeno, quanto e come ha voluto, e comincia questa collaborazione di Goldoni con Vivaldi. Ma poi naturalmente abbiamo anche Rousseau, Casanova, Voltaire, fino alle donne, che non mancano naturalmente nella vita nel teatro, e c'è alla fine un profilo particolare di Maddalena Marliani che alimentò e plasmò la vis drammaturgica di Goldoni, e possiamo immaginare non soltanto la vis drammaturgica. Da Olski, Roberto Ridolfi, un umanista del XX secolo, a cura di Giustina Manica. Vedete l'ex libris di Roberto Ridolfi, Os superabo montes, supererò questi monti. E allora, Roberto Ridolfi è stato un buon ricercatore, ma soprattutto un ottimo scrittore. Non a caso è un umanista fiorentino. E allora andiamo a verificare quanto appena detto. Sestan, che è uno storico illustre del primo novecento, è colpito soprattutto dalle grandi doti di scrittore di Ridolfi. In lui, l'erudizione più consumata si fa opera d'arte. In questa sottolineatura dello spessore dell'erudizione e della finezza straordinaria della scrittura, si avverte forse implicitamente una qualche riserva sul valore più strettamente storico e di interpretazione del pensiero di Machiavelli. Allora, in nota, per Roberto Ridolfi, tra gli altri Vittore Branca e Gennaro Sasso. Roberto Ridolfi, un fiorentino alla Baronia, testimonianze tra le altre di Alessandro Olschi, Luigi Balsamo e Eugenio Garin, e soprattutto Roberto Ridolfi. E andiamo ancora a un altro riferimento che può essere utile, che riguarda gli Elzeviri, nei quali Ridolfi eccelleva. Recensendo uno di essi, i Ghiribizzi, Montanelli scrisse che quello degli Elzeviri, se non è il Ridolfi maggiore, è il Ridolfi migliore. Il Ridolfi era un complimento a doppio taglio, che conteneva però una parte di verità. Quanta lo capiremo fra qualche secolo. In fondo, si parva l'Icet, se si possono comparare le piccole cose e le grandi, anche il Petrarca. Non è ricordato per l'Africa, ma per il canzoniere. Ma appunto siamo ai Parva, accostati ai Magna. e andiamo a quest'altra sezione, partendo da Arianna, Edizioni, Vincenzo Muscarella Damiana. E stavamo per dire il solito giallo che viene intrecciato attorno a uno stupro che viene qui ricordato, descritto, eccetera, e poi la ricerca affannosa del colpevole fino alla conclusione. E insieme al volume ci vedete un CD-ROM con testimonianze indirette, perché non parlano di questa vicenda, ma parlano appunto di questa drammatica realtà dello stupro, e sono interventi di Pino Veneziano, Monio Vadia, Ezionoto, Edoardo De Angelis e Francesco Giunte, da Solfanelli, Azzurri di Mare e Vele e Rabonde. Breve antologia della narrativa pescarese, 1887-1987, a cura di Lucio d'Arcangelo. Apre alla grande, si fa per dire, Gabriele D'Annunzio, e poi seguono altri racconti, diciamo così, non proprio memorabili. Dopo appunto Conrad Federnmayer, Azzurri di Mare e Vele e Rabonde, che dà il titolo, Gabriele D'Annunzio con la Contessa da Malfi, poi Vincenzo Bucci, la Ghirlanda, Luca Antonelli, la Piccolo Sirio, c'è anche un piccolo intervento di Ennio Flaiano, traccia di autobiografia, ma è appunto un minuscolo, la certo, e finalmente Aldogrosi, via del Procacciolo. Da Quadlibet, un bellissimo e divertentissimo, noto d'altra parte, Beauvoir e Pecoucher, di Gustave Flaubert. Gustave Flaubert è uno dei grandi dell'Ottocento francese, e Beauvoir e Pecoucher, questa coppia che rinuncia perfino al lavoro per dedicarsi, non ci sfugga un testo di Armando Cavazzoni, a commenti, dicevamo, è una coppia che lascia il lavoro per dedicarsi alle loro ricerche, in qualche modo, si fanno, come dire, poliziotti, si nascondono, si travestono, corrono varie avventure, non mancano quelle sentimentali, gli innamoramenti, ripetiamo, anche se in traduzione, perché andrebbe letto in francese, è un romanzo godibilissimo. Molte volte ci siamo soffermati, abbiamo gustato, alcune citazioni che meriterebbero di essere riportate, vediamo se ne troviamo almeno una, eccolo qui, vediamo. A questo punto termina il manoscritto di Gustave Flaubert, pubblichiamo uno schema trovato fra le sue carte che indica la conclusione dell'opera. Discorso di Pecoucher, Pecadantesco, discorso di Beauvoir familiare e ancora, il giorno dopo a colazione riparlano della conferenza Pecoucher-Beuvoir fino all'ultimissima conclusione. Così si è infranto nelle loro mani, non hanno più nessun interesse della vita, buona idea, nutrita segretamente in ciascuno di loro se la nascondono, ogni tanto quando viene loro in mente e sorridono e infine se le comunicano l'un l'altro. Copiare, costruzioni di uno scrittore a doppio legio, si mettono all'opera. In fondo, all'ultima pagina, figura la seguente annotazione. Vocor-Beuvoir attirato dal rumore parla in loro difesa, bisognerebbe piuttosto mandarli in manicomio, questo per spiegare alla fine del secondo volume la sua lettera al prefetto perché il prefetto ha saputo di questa frase e vuole chiedergli un parere. Bisogna rinchiuderli e veniamo a questa ricca conclusiva sezione prima della conclusione nei libri del Borghese ma i volumi ci vengono per il tramite di pagine editore a Roma 10 febbraio dalle foibe all'esodo di Roberto Menia. Una storia tragica. Noi negli anni romani al seminario francese abbiamo avuto due italiani che venivano dalla Croazia e che erano stati obbligati a slavizzare i loro nomi e cognomi. E qui questa storia tragica delle foibe il 43 la fuga degli italiani una delle vittime qui Maria Pasquinelli e l'elenco tragico delle vittime vedete l'indice comincia con Norma Cossetto una delle storie più tragiche e poi a mano a mano gli altri tragici episodi gli altri tragici protagonisti di queste vicende per cui è stata istituita la giornata del ricordo appunto il 10 febbraio da Gammarò Vito Molinari Paolo Fregoso Genovese è un volume vivace e divertentissimo Paolo Fregoso l'unico che è stato arcivescovo e doge e qui le sue avventure e disavventure che si intrecciano con altri protagonisti dell'epoca vedete qui Luigi un decimo ma anche l'infanzia di Cristoforo Colombo l'uccisione di Galeazzo Visconti insomma è un quattrocento tragico Papa Innocenzo VIII lode a Innocenzo rendere o quiriti si debbe che dell'esausta patria la prole e il stesso accrebbe otto bastardi ed otto fanciulle ha generato innocente e della patria padre sarà chiamato o tempora o mores è ancora una storia tragica da Mursia Franco Giannantoni Gianna e Neri vita e morte di due partigiani comunisti storia di un tradimento tra la fucilazione di Mussolini e l'oro di Dongo si può immaginare questa lunga tragica storia con molti punti oscuri che nell'intreccio degli avvenimenti di quegli anni appunto si ripercorre anche la vicenda di questa coppia che è stata anche perseguitata processata incarcerata in qualche modo sono riusciti a sfuggire ai loro Aguzzini fino alla conclusione tragica in cui essi stessi moriranno nel finale tragico di queste vicende dunque Gianna e Neri da Mursia Paolo Fregoso Genovese di Vito Molinari da Gammarò nei libri del Borghese si ricordano le foibe e quindi l'istituzione della giornata delle foibe Gustave Flaubert Bouvare Picochet da Quadlibet da Solfanelli Azzurri di mare Vele e Rabonde racconti non memorabili Damiana dalle edizioni Arianna Goldone il teatro del Settecento da Carocci da Orski Roberto Ridolfi un umanista del ventesimo secolo dalle edizioni San Gabriele dei passionisti Tito Paolo Zecca passionista i passionisti in Sabine nell'Abruzzo Aquilano Ucraina per edilibri Ucraina tra Russia e Occidente da grafe tensioni sociali nella tarda antichità eravamo partiti dalle Paoline danzare con la solitudine e messaggero di Padova Roberto Schiavolino lo spirito soffia dove vuole un dottorato di ricerca e per concludere per davvero intanto da Torred le scritture disegnano i paesaggi esempi fenicio-punici di Alessandro Campos e vedete che tutto il volume è arricchito da queste stele queste iscrizioni che vengono appunto lette vengono commentate vengono riportate in italiano e poi fino alla conclusione che riassume un po' tutto lo studio di questi paesaggi e per concludere per davvero Rotas di Barletta ci manda Michelangelo Filannino che ci porta il suo le epigrafi di Barletta Teledeon ha una intervista a Michelangelo Filannino con Luisa Filannino che è intervenuta nel colloquio e noi intanto presentiamo questa edizione del volume ci soffermiamo naturalmente sulla nostra chiesa di San Domenico di cui come negli altri casi vengono riportate le lapide la trascrizione e lo stato come dire di ricerca perché di alcune lapidi è possibile individuare con chiarezza testo con testo e autori in altri casi meno noti ricordiamo anche che alcune lapidi di San Domenico si trovano attualmente nel castello di Barletta e ancora una volta ricordiamo che SS non sta per Santissimus e sua declarazione ma è il plurale di Sancti come PP sono i padri e con questa annotazione simpatica e divertente vi salutiamo arrivederci a Grazie a tutti.